ciao ragazzi da vittorio oggi solo un video per curare buon natale a tutti voi grazie per chi si è iscritto al canale grazie per chi si è abbonato grazie perché semplicemente questo primo video che vede buon natale a tutti alle vostre famiglie è un natale particolare è un natale difficile per tanti punti di vista vi auguro che sia un natale sereno e che sotto l'albero avete trovato il regalo che speravate oggi solo questo video per curare buon natale a tutti torneremo attivi nei prossimi giorni perché ci sono tante cose da dire sulla lazio e non tutte sono molto positive però oggi godiamoci il natale buon natale a tutti voi ciao da vittorio